A volte basta poco per risvegliare le potenze delle tenebre, un rituale sconosciuto o l'apertura della porta dell'aldilà attraverso una tavola ouija. E fu così che qualcuno interrogando gli spiriti dell'aldilà vide ciò che stava per accadere. L'anziano medium non ha retto all'orrore a cui ha appena assistito, perché lei ha veduto e le potenze degli inferi non le hanno permesso di vivere oltre. Nessuno immagina quello che lei ha visto, l'orrore che è stato a scavenarsi in questo luogo fuori dal mondo civile. No! 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 amore mi hai mentito tu non mi hai mai amato parti 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 ti devo fare bello per quando verranno a prenderti il 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 il